ok facciamo ripasso delle ultime tre lezioni di esercizi che in teoria è l'ultima lezione del libro perché poi è un ripasso standing by grazie judge judge judy slayer per il follow thank you very grazie poi è un ripasso buono poi non so se questo ripasso lo faccio in live o no perché è un ripasso delle lezioni precedenti e del due e del tre provo per farlo in live come deciderò però tanto dobbiamo andare avanti col dizionario e il cangi sicuramente lo farò però non so se lo faccio in live perché non ha senso il ripasso di quello che ho già fatto iniziamo da g1 sperando di ricordarmi cosa come si fa allora verbo in forma bache informa se aspetta buondi alexy review che mi è partito lo speaker ottimo direi a me vi si è rotta la caldaia di tutto allegria naota yokata i yokata ok perché ho messo verbo in forma ba a parte aspetta perché ok perché ci vuole verbo in forma ba più però ok ok cioè cioè trovate anche il verbo in forma ba più monowo ok adesso ci sono ayakubyoinni ikeba questo è lo segno giusto per far capire la regola grazie corcor per il follow ayakubyoinni ikeba su guna otta monowo muri suru kara idoku naronda se andavi subito se fossi andato subito all'ospedale saresti guarito subito invece hai esagerato e diventato peggiore sei peggiorato mosukoshi yasukereba se fosse più economico kaumonowo koredewa tega denei se fosse stato più più economico un pochino più economico l'avrei comprato così non ci arrivo perché te dodo kanaya non arriva a comprarlo darekani ikeba yokata monowo yoku akaranai mama chiga denshani notte shimata qua c'è qualcosa di strano kikeba infatti ho letto aprire il posto di sentire infatti sembra strano se avessi chiesto a qualcuno sarebbe stato meglio e invece sempre non capendo bene cosa fare o sono salito sul treno ho sbagliato infatti ho sbagliato a leggere kiku ho letto aku vabbè ottimo kore zenbu itori de e katatsuki tandeska hai messo tutto questo a posto da solo potashini itekureba se me l'avessi itekureba se me l'avessi detto me ti avrei dato una mano non ci crede nessuno teo tezudatta monowo ti avrei aiutato invece non l'hai fatto perché sei uno su torno nai monodemonai non del tutto possibilità che avvenga una cosa un verbo in forma nai o in forma kanose che è possibilità rikai dekinai e non capire rei è un esempio nome più ga si usa con dekiru wakaru omou kangaeru kanji gasuru kigasuru potere, capire, pensare, cioè penso che pensare di nuovo mi sembra così e ho quella sensazione come di assorbimento e assomiglia a nakuanai e naikotomonai kono dan kaide chushi no kete osta wa odoro kidaga rikai de kinai monodemonai a questo punto che sia stato deciso di fermarlo mi sono meravigliato ma non è che non lo capisca non capisco quello che pensi a yamata o ga ito mo ma penso che sia meglio che chiedi scusa volevo vedere nome e verbo ok verbo in forma negativa con salto al concerto su koshi okureru kamoshi renai ga potrei arrivare un attimo in ritardo ma shi chiji kai en nara ikenai monodemonai giusto c'è scritto qua ma se inizia il concerto per le sette non è che non posso andarci nara quello che abbiamo fatto adesso negli esercizi per i principianti sensei wa izumo izokashike do il maestro è sempre impegnato ma tanomenai monodemonai tomo imasu ma non è che non glielo puoi chiedere futsu wa kangaera renai ga kakoni rei ga nai demonai normalmente nessuno ci pensa ma non è che nel passato non ci sia stato un esempio monotomo seizu senza aver paura non si usa per la prima persona situazione che segue azione positiva nome ame piu uomono seizu kiken pericolo antai contrario hihane criticare arashi tornado furio tsuzuku ame o monotomo seizu sankasha no minna sorezzore ni marason o tanoshinda sbattendorsene i maroni che continuava a piovere di continuo che continuava a piovere i partecipanti tutti a uno a uno si sono divertiti alla maratona ude no kega o monotomo seizu karewai tsumodori no genki napure o misete cureta sbattendosene i maroni che si era fatto male al braccio ci ha fatto vedere come ogni volta il suo modo di giocare bello genki genki questo è tai in se non sbaglio si tai in ok tai in tachi kiken o monotomo shinaide ishi no kyujo katsudo o tsuzuketeiro il gruppo il team i partecipanti i membri buon di bentornato sbattendosi nelle balle del pericolo continuano a fare attività di salvataggio si impegnano tanto a fare attività di salvataggio shui no hantai o monomoto mo seizu senza senza fregarsene che gli altri attorno la pensano in modo contrario no questo è ane dovrebbe essere danso benchio salutameni new york to tabidatta questo tutto mi sembrava strano infatti l'ho segnato e to tabidatta perché sta raccontando mia sorella è volata a new york per imparare cioè per studiare la danza questi sono gli esercizi che non ce ne frega niente g2 verbo in forma passata piutokorode anche se non cambia nulla da tabidatta donna ikura tatoe che esempio quello tatoe tra parentesi e il kanji direi che qua non so perché non c'è nani monai dosho monai dame da watashiga ishoni itato korode ammari yakuni tatanai tomo anche se venissi o verressi io non so come si dice in italiano insieme non cambierà non sarò penso che non sarò molto utile i makarau atete benchiosta to korode doni monaranai anche se mi metto a studiare adesso agitandomi non cambierà nulla benissi andava benissimo grazie don ni gambatta to korode anno cim ni katsu no wa murida tomo per quanto ti impegni penso che perché sarà impossibile battere quel team grazie anche se ne parliamo tra di noi non risolveremo una fava come quelli che parlano al bar di calcio e robe varie come se potessero decidere loro chi far giocare robe varie che non serve assolutamente a nessuno in questo momento formale isokashi impegnato o shokuji mangiare più no attenzione che quando bisogna mettere il no verbo informarò o ukagai questo è come si chiama keigo che lo faremo nella prossima lezione beki questo era dao dajo non me lo ricordo già più tabo e tabo go tabo essere molto impegnato perché pirano l'ho scritto qua guardavo qua comunque tabo l'ho detto o shigo to chu durante il lavoro shokuji chu durante la cena o yasumi o tanoshimi durante il riposo divertimento o isokashi quando sei impegnato watashi ga su beki lo avrei dovuto fare io o questa comunque è l'ultima lezione di grammatica poi c'è ripasso non so se lo farò in live o no perché non ha senso è la stessa cosa ripetuta però mai toku madekite itadaki arigato gozaimasu sei venuto da lontano in questo momento che eri impegnato grazie tante o shokuji chu notokoro wo sumi masenga ciotto ukagate mo yoroshi de shoka questo sho non so se la i è grande o piccola mi sa che la i è grande qua no invece è piccola me lo scusi mentre sta mangiando posso farle una domanda la risposta è no o yasumi notokoro notokoro qua non c'è wo perché ha messo la virgola oden wao sashi agemaste mo shiwakari masen mi scusi se l'ho chiamata mentre si stava riposando praticamente informale kochira karago ai satsuni ukagai surubeki tokoro wo gyakuni okoshi itadaki sumi masen sarei dovuto essere io che dovrevo farla i saluti cioè devo salutare devo ringraziarla e invece al contrario li ho ricevuti mi dispiace me li ha fatti lei prima ikko isenhen no tokoro wo e questa invece è una cosa irregolare che non segue il resto del discorso ecco una cosa costa 1.000 yen kyo wa niko isen go yaku yende go teikyo shimasu oggi due pezzi te li faccio a 1.500 te sei contento? toita tokoro da to yu tokoro da questa è la situazione non è una cosa difficile dai gakusei che studiate mako seizei cos'era? seizei guakanai bene zatto è subito dai taie è abbastanza allora saku inno deki deki goto aspetta deki deki saku sen aspetta ma lo devo scrivere mi sa che è solo deki deki si è solo deki ok saku inno deki ito shtewa yokumo nai ga warukumo nai to ita tokoro desu come prodotto finito posso dire che non è né fatto male né fatto bene nansai kuraino ito data quanti anni aveva plus or minus yoku oboetenae kedo san giudai mai questo qua l'abbiamo appena fatto anche noi san giudai mai han to ita tokoro da tomo non lo so bene non me lo ricordo bene ma penso che fosse del prima metà dell'era degli anni trenta sarebbe degli anni trenta i primi primi sei mesi degli anni trenta ato dore gurae de tsukuno quanto ci metterai per arrivare più o meno sono ato san giu punto ita tokoro kana più o meno ci mette sembra che ci metterò 30 minuti astamote ita oga imono wa saifu mibun shomeisho questo qua cos'era ikkyogu oh mio dio dovrebbe essere ikkyogu vediamo anche perchè sono scritto dovrebbe essere ikkyogu questo qua si ikkyogu giusto to ita tokoro desu domani che cosa sarebbe la cosa che sarebbe meglio portare domani direi il cose per scrivere il la carta d'identità e il portafoglio bene altra lezione già non mi ricordo più che cosa ho detto quindi sarà divertente kagiri da qua sono tutti i kagiri quindi per come confonderti la vita kagiri da è la cosa migliore espressione che mostra sendimendo questo è non mi ricordo più ma dovrebbe essere urayamashi se non dico una stronzata che è geloso urayamashi e questo è zannenna urayamashi azukashi ureshi yorokobashi kanashi geloso come si chiama azukashi vergognarsi contento felice e turiste poi abbiamo samishi o sabishi che è la stessa cosa kuyashi e nasakenai sabishi è sempre un altro triste kuyashi è invidioso no non invidioso tipo sì che nervi che invidia e nasakenai che sia una merdaccia e kanogio toshini nikaimo no nenni questo è nenni nenni nikaimo kaegai ryokoni teruno urayamashi kagiri da è lei che in un anno va due volte in viaggio all'estero sono gelosissimo sarebbe sono invidioso geloso ma con la stessa cosa in italiano per me la stessa cosa a meno per me la stessa cosa ripani sei ciò sta ossie gotaci coste au koto gadekite ureshi kagiri da sono super felice di incontrare i miei allievi che sono cresciuti così bene nel senso che ero una ragazza sono venuti dei meloni enormi daigaku nirukoro yoku kaiote itano omisenanode shiten dovrebbe essere o eiten forse eiten eiten wa zannenna kagiri da fammi scrivere eiten questo qua lo dico sempre shiten in francese di eiten ok quando andavo all'università visto che era un negozio che frequentavo spesso quando andavo all'università che adesso è chiuso è una cosa che mi dispiace molto o kagirini kagiri entro per finire mettere fino a un periodo è una cosa che dici si usa con koe inochi e cicara significa tirar fuori tutto toh allora kyō konkai onjitsu nichi ima kono ipai nennai e eicinen oggi questa volta oggi è lo stesso il numero del giorno questo qualcosa questo qualcosa ipai è entro durante questa cosa qua dentro l'anno in un anno kyō o kagirini kareto wa mo awanai kotonista da oggi da iniziare da oggi o con finire di oggi non ha più intenzione di incontrare lui perché ne incontrerai un altro konoshi ai o kagirini ta in suru yamada sensu ni fankara okina akushu o okurareta è stato regalato un grande applauso dai fan all'atleta yamada che si ritenerà con la partita di oggi watashi ga sotsugyo shita shogako wa questo cos'era shoshika era shoshika o chushika non me ricordo shoshika dice mako nota me ehm 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 la scuola elementare dove mi sono laureato che però vabbè dove sono stato promosso perché le scuole elementari non ti laurei per la poche per i pochi studenti o per le poche nascite quindi per i pochi studenti penso da questo entro quest'anno chiuderà ehm ehm verbo in forma negativa ehm 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 questo è per sicurezza mi porto l'ombrello non trovo ancora le chiavi non hai detto che non siano dentro le tasche perché non ti guardi ancora una volta non le guardi ancora una volta maco ogni volta che ho bisogno di te tu cosa fai? vai via, brava maco poi mi devi correggere le frasi eh io dove me le correggi? dal bar? eh io e stai andando via vabbè doko kade doko kade doko kade doko kade shiriayni awanai tomoka ghiranai karach maco questa è per te maco questa frase è per te doko kade shiriayni awanai tomoka ghiranai karach chanto kakode di kakitaogai no è chanto kakko e canto ah no manca uno sta canto sta kako no kako era giù ci voleva maco allora maco ascolta visto che non è detto che quando esci non incontri qualcuno che conosci sarebbe meglio che esci vestendoti in modo decente sì è quello che ho detto nikagita kota de wanai non è solo così nikagita nasci de wanai non ho detto che non sia così kyo nanmo già non mi ricordo più niente di quello che ho detto nani mo kyo konkai ima kare jose wa kaito nio niente oggi questa volta adesso lui donna cioè sì femmina persona giovane giappone kare ga chikoku suruna wa kyo nikagita koto janai e che lui arrivi in ritardo non è definito solo però cioè non è una cosa solo di oggi kono yonamondai wa ima no seifu ni kagita koto de wanai il problema di adesso cioè questo tipo di problema non è legato solo al governo di adesso ai satsu ga chanto de kinai no wa nanimo nanimo no nanimo wakamono ni kagita koto de wanai nenre nenpatsu non mi ricordo più nenhatsu nenpatsu nenpai non lo so sto leggendo nenpai non me lo ricordavo nenpai ho detto nenpatsu nenpai no ito ni mo l'altra volta l'ho letto giusto adesso no nenpai no ito ni mo de kinai ito wa taksan gairo questo me lo segno perché l'ho letto male l'ho letto nenpatsu quindi me lo segno allora ciao non riescono a salutare per bene non solo relativo ai giovani ma anche le persone di una certa età ce ne sono tante che non riescono ok proviamo a fare gli esercizi e auguratemi buona fortuna perché già non mi ricordo più niente allora onjitsu wa oggi uno onjitsu wa o izokashi questo è formale quindi la risposta sappiamo già qual è tokoro wo dovrebbe essere tokoro wo tokoro wo katagata e vedi che stronzo perché mette katagata che era quello vecchio che però è un esercizio vecchio katagata che si usava boh comunque metto tokoro wo perché era quello dell'esercizio però anche katagata si usava nelle forme formali quindi è un po' stronzo che vuole inchiappettarmi ed è due ben tornata ma ecco due yujin che è il super amico questo qua lo leggo sempre male io leggo sempre tomo dachi perché leggo tomo e poi non leggo il resto yujin tachi gli amicici super amici no antai anche se i super amici dicono di no questo dovrebbe essere o mono tomo sezu o tomo o mono figa o mono tomo sezu fregandomene che i miei amici tomo sezu fregandomene che i miei amici dicono sono contro minchia non rispettare sezu care lui ciao macosan è macosan è andata in bagno e adesso uscirà ti sta salutando massi che è in bagno gibun o mono gibun non mise massi non è che ti avanza una caldaia venisi appena rotta o iraita iraita allora sbattendosene che i suoi amici dicevano di no lui ha aperto il suo proprio negozio e adesso ha le pezze al culo forse l'ultima parte non c'era però l'abbiamo aggiunta noi tre sperando che sia giusto potrebbe essere sbagliato musume mo umare takoto desu shi chio osakeva tabacco yameyoto mo emis chio 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 non c'è fretta chio o cagirini non c'è fretta maco dopo passa a salutare massi è male musume mo mi si è rotta la caldaia era solo per quella era una battuta un mare tako solo che non so il tipo mi ha consigliato visto che io non uso i caloriferi perché uso la bomba di calore di mettere solo lo scaldabaglio però mia mamma dice no metti la caldaia perché poi se ti servirà un giorno come cazzo fai però non mi ha usato boh cosa mi consiglia il dottore osakemo io sono ignorante quindi poi ci sono tutte queste offerte che il 30% 60% non ci capisco niente poi ogni volta la piglio in cu come quando ho messo l'aria condizionata che poi non ho preso niente o yameyo to o mo imas allora musume mo umare takoto del sushi questo qua l'abbiamo appena fatto anche noi kyo po kagirini sakemo tabacco mo yameyo to mo imas visto mi è nata la figlia entro oggi con oggi penso di smettere di fumare e di bere e di anche trombare perché sarebbe meglio anche io dovrebbe essere kagirini però lo vado a guardare perché non mi ricordo più un cazzo a sentimento e kagirini comunque la risposta rimane quella però volevo o kagirini kyo kagirini o kare to au si dovrebbe essere così allora poi itaku itaku jijomo che non lo vuoi dire itaku itaku nai che non lo vuoi dire jijo jijo è situazione jijo jijo che è quell'amico di topo jijo mo dovrebbe essere wakaru wakaru demonaiga wakaranai demonaiga non mi ricordo più come si dice questo qua non è che non capisco la situazione dovrebbe essere wakaranai demonaiga kikinto watashini sezumeste dovrebbe guardo solo per la cosa dovrebbe essere dove cacchia questo qua nai demonai quindi nai demonai dove cacchia perso wakaru demona demonai wakaru però è nai demonai quindi è questa perché l'altro è wakaru demonai dovrebbe essere wakaru nai demonai sezumeste nai demonaise ok wakaru 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 demonaiga grazie proto tu si che mi vuoi bene mica mia moglie che gli ho detto mi aiuti è uscita wakaru 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 nai demonaiga kikinto mia mamma dice di non mettere la come si chiama la lo scaldabagno e di tenere la caldaia perché se mi si rompe l'aria condizionata ho quello per riscaldarmi però non so cosa fare poi ho visto che ci sono le offerte tipo del 65% robe varie ma non ci capisco niente anche l'ultima volta che ho comprato l'aria condizionata poi è finito che ho pagato tutto io non mi è tornato niente ottimo chikinto chikinto potashinimo biologici è furesco dai sì sì no quello sì ma no almeno quello che si sta bene il suo Marco dice che fa freddo no ha ragione la mamma ok ha ragione la mamma quindi niente saltiamo il discorso scaldabat solo che non voglio spendere miliardi fino a mille ci arrivo 15 16 2000 se ne vanno a fanculo non è che non capisco la situazione per la quale non vuoi dirlo ma voglio che me lo spieghi bene a me ho capito mi stai dicendo di dirtelo praticamente gli ho detto che non te lo voglio dire è della 3 almeno spero poi Tanaka-san Tanaka-san questa è l'ultima lezione di grammatica To-I-Sho e abbiamo finito To-I-Sho-Ni-Ke-Ba se va insieme al signor Tanaka I-Ke-Ba-I Tanaka-san To-I-Sho-Ni-Ke-Ba-I Mono-Uo dipende dalla potenza che è il calore che è la tua attuale caldaia da lì hai il prezzo della caldaia c'era già non è che l'ho messa io non posso cambiarla Ikita-Garu No Ikita-Garu Allora sarebbe stato meglio se andassi insieme al signor Tanaka perché vuoi andare da solo Eh ma deve venire il tipo a farmi a misurare io mi faccio fare i preventivi e poi vediamo perché tanto non ci capisco un cazzo quindi questo qua dovrebbe essere Mono-Uo anche se mi sembra strano Kagide-Tomo-Kagirana-Kumbo dovrebbe essere questo spero ah non lo so 6 cioè potrebbe essere come potrebbe essere cioè nella mia mente è giusto però magari per il giapponese Mo-Mina-San già tutti To-Ainai non li incontrerò più To-Moto se penso che non vi posso incontrare più Sabi-Shi sono Torist Sabi-Shi Kagiri-Da Kagiri-Nin Kagiri-Des Kagiri-Des Kagiri-Da è la stessa cosa Kagiri-Des sono Torist sono super tristissimo solo a sapere che non vi potrò più incontrare ed è ancora uno figa mi sa che qua ho sbagliato qualcosa è tutto uno lo sto rispondendo vabbè poi 7 comunque la sto ancora usando però il problema è che la la turbina non gira più e lui mi ha detto che quando usiamo l'acqua adesso o mi esce bollente o fredda e poi se tieni troppo acceso il coso visto che non gira l'acqua va in blocco perché si surriscalda e quindi ho detto ma manco di usare cioè di farsi la doccia e di non rompere i coglioni sì quel che l'è è quella cosa che non va per me è la stessa è un pezzo che non va che non gira infatti quando si accende la cosa non fa casino di solito facciamo adesso invece non si sente niente è muta però l'acqua calda esce un po' alla cazzo che si accende niente l'acqua calda no a concai ma concai no kagirizane concai no shigoto ni kagitta koto de vanai dovrebbe essere però non mi ricordo o o ni dovrebbe essere ni kagitta io dico la 2 però guardo sì è la 2 ni Lui che sbaglia Non è relativo solo al lavoro di stavolta Che significa che sbaglia sempre Che lei è un cugliù Aiutatemi Non voglio spendere i soldi per una cazzo di caldaia Io volevo comprarmi la scheda video nuova Non una caldaia di merda Tojitsu naio Questo non lo so Tojitsu naio Ohasure Ah ok ok ci sono Eh scrivimelo Scrivimelo perché viene fuori un casino Scrivimelo che mi rimane Scrivimelo dove vuoi ma scrivimelo Scrivimi anche quando penserai Che ti sei innamorata Perché non mi ricordo un cazzo Scrivimi Scrivimi Asu sanca iotena noa Ah no sta già saltando la frase Tojitsu naio Dovrebbe essere il discorso di oggi Cioè il contenuto di oggi Tojitsu naio Naio contenuto Tojitsu lo cerco Dovrebbe essere il contenuto di oggi Ohasure Non è detto che non ti dimenticherai quello che abbiamo detto adesso come sto facendo io Wasure wa nai To kagiranai Kagiranai Dovrebbe essere Ho sbagliato anche scrivimi Ga To Kagiranai Non è detto che non ti dimentichi quello che abbiamo detto adesso o oggi Supici Supici è quando fai il discorso Supici no Kenko Che è la bozza di Questo è Kenko salute Genko Infatti No Genko La bozza del discorso Wa Motte Itaoga Sì sarebbe meglio che ti Che vai con Che ti porti indietro la Cioè la bozza di quello che Devi dire praticamente Non è detto che non ti To kagiranai Dovrebbe essere Wasure nai To kagiranai Dovrebbe essere Ed è la Quattro Spero Scopriremo dopo Nove Asu Ah no Devo vedere Tojitsu Dovrebbe essere In questi giorni O oggi In una roba del genere Non mi ricordo più E se non avrai da dire Le amnesie Inizio ad avere le amnesie Adesso mi verrà Come calchi si chiama L'Alzheimer E mi dimenticherò tutto quello che ho studiato Giorno per giorno Significa Ok L'appuntamento giornaliero Il giorno in questione Ok Però Dojitsu naio Cioè il contenuto di oggi Cioè del giorno Ah il contenuto del giorno Ok ci sono Il contenuto del giorno Non è detto che non ti dimenticare Il contenuto del giorno Quando fai il discorso Quando fai il discorso Sarebbe meglio che ti porti La bozza del discorso Praticamente Ok Poi Hayashi Che è il nostro Professore Hayashi Che si è visto una volta Solo per scomparso Hayashi Kawada Kawata Vabbè Il nome di Milata Comunque Kawata Kawata San E si vabbè Ara San E tu sorella San Non c'è Ara San Nika Gittakoto Aspetto Dovrebbe essere To Itatokuro Des Dovrebbero scriverlo così Ma non lo fanno Perché sono stronzi Des Allora Mi sembra che I partecipanti Di domani Saranno Ara Kawata Hayashi E Tanaka E tutti i sani Appassionatamente Dovrebbe essere La One Italia One Eccolo qua Poi Dieci E ultima frase E Watashi no Bai Ciotto Benkyo Sulu Da Karas Stato Kolode Ciotto Benkyo Stato Kolode Shiken Ni U U Kari Soni Nai Ok Dieci Nel mio caso Watashi No Bai Ba Fai Nel mio Ca Bai Eccola La normale Nel mio caso Ciotto Benkyo Studio un pochetto Sta Tokorode Se studio anche poco Tokorode Shiken Niwa Ukari So Ni Nai Dovrebbe essere Non darò l'esame O non passerò l'esame Ukari So Ni Nai Ukaru Shiken Unka Ukaru Non dovrebbe essere Fare l'esame Ok Buon Buon riposo Ukaru Di passare l'esame Ok Anche se studio un po' Anche se studio un po' Sta Tokorode Non passerò l'esame Ottimo Devrebbe essere la 4 Che è l'unica 4 che c'è Poi qua bisogna mettere le frasi in ordine alfabetico Uno Natsu Natsu no Questa è quella che Quella difficile diciamo Quella che dovete sapere la grammatica se non potete farlo Natsu Kodomotachi wa Atsuza Omo Eh qua è un casino Allora Natsu no Natsu no Natsu no Genkini Natsu No Atsuza O Dovrebbe essere Natsu no Atsuza Il caldo dell'estate Uo Moto Mono To Mosèzu Sbattendo le sene dei maroni Del caldo dell'estate Eh questa qua è bella da imparare così Kodomotachi wa I bambini Kodomotachi wa I bambini Genkini Belli genki Genkini Eh sotto De Fuori Sotto De E qua non sapremo mai se è giusto perché Nessuno me lo dice Marco è andata via Assonde I ru Giocano belli allegri fuori Eh Eh I bambini Sbattendosene del caldo dell'estate Eh Dovrebbe essere Questo qua Kodomotachi Se è giusta la risposta 3 Potrebbe essere che È giusto L'ordine Delle Delle cose Se invece è un altro Significa che ho sbagliato C'è l'ordine della frase Comunque in generale Dovrebbe essere Il Sbattendosene del caldo dell'estate I bambini Giocano fuori Belli genki genki Donna ni watashi ga Donna ni watashi Tachi ga Per quanto noi ga Non si sa cosa Donna ni watashi tachi ga Setsu Jibun no Setsume Hayashi san wa Però wa Perché wa Hayashi san wa Jibun no Setsu Meshita Allora Watashi tachi ga Jibun no Mmm C'è questo jibun Che mi sembra strano Allora Donna ni watashi tachi ga Setsume Seta Jibun no Setsume Shita Tokoro De Hayashi san wa Yarita Yoni Ni Yarutomo Watashi tachi ga Jibun no Questo jibun No Jibun no Setsume Shita Tokoro De Dovrebbe essere Jibun Jibun Questo jibun Che mi puzza Jibun no Setsume Per quanto noi facciamo la nostra spiegazione Sta Tokoro De Lui farà come vuole Tokoro De Hayashi san Il signor Hayashi torna all'attacco Hayashi san wa Fa come cacchio vuole Yaritai Yaritai Yoni In modo tale che vuole fare Yaritai Yoni Yarutomo Per quanto noi glielo spieghiamo Penso che il signor Hayashi Faccia un po' come cazzo vuole Praticamente Ho detto in modo carino Tokoro De Eh Jibun Ah però Jibun no Yaritai Jibun no Yaritai Koto Aspetta No potrebbe Eh qua è la cambio Però mi Allora potrebbe essere Le lascio tutte e due Però potrebbe essere così Don Perché c'è Watashi Tachi Perché Jibun è strano Eh Watashi Setsume Stato Korode Jibun no Hayashi san Wa Jibun O così Però devo lasciarlo L'altro Che pirma La metto così Però lascio anche l'altra Tengo questa come risposta Più che altro per il Jibun Che mi dà fastidio Per quanto noi abbiamo Glielo spieghiamo Il signore Lasci Farà quel cazzo Che vuole fare noi Penso che sia così Cioè potrebbe essere Perché l'altro Jibun Sta male Perché c'è scritto Si lo lascio così Se sbagliare Allora Seratokorode Era come era prima Se Hayashi È come ho scritto adesso Ed è la 1 Lo scopriremo dopo Lo scopriremo Sono vivendo Io Che l'avete imparato Che voi Cos'è Io Costo d'uso O spesa Zairio Zairio Che è il costo Degli ingredienti O O del materiale No Sì no Zairio Ingredienti O Fukumete Messo insieme Fukumete Il costo Messo insieme Al costo Degli ingredienti Senhen Teido Senhen Teido Piga Senhen Teido Teido To Itta Etta Tocoro Adesso Adesso Allora Il costo Compreso Gli ingredienti Questo Non so se mettere Fukumete Senhen To Itta Tocoro Teido Des Non so se Teido Va messo Io metterei Teido Qua Però Non so Cioè Praticamente Il problema È Teido Se va messo Dietro Cioè Se va messo O qui O qui Io lo lascio Qua Ma Potrebbe Essere Anche Qua Dietro Se la risposta È questa Teido Era qua Dietro Cioè Invertiva Questi due Qua Però Dovrebbe Essere Più o meno Così Cioè In generale Giusto Non so Solo L'ordine Di questi Due Suona Bene Però Vediamo Del La One Anche Questo È uno Ok Bene Quattro Vedrai Che Ha fatto Un casino Chi Te Curere Ba Se Me Lo Chiedevi Chi Te Curere Ba Se Me L'avesti Chiesto Che Quello Che Stiamo Facendo Adesso Watashi Ga Ti Avrei Aiutato Non ci Chiede Nessuno Watashi Wa Shukai Ste Omisen Mono Misen O Shimon O Mise Omise Omise O O Shimon O O Shimon O O Mi Questo Suono Di Merda Shukai Ste Aghetan E Ti Avrei Ti Avrei Presentato Mise O Shukai Si Presentato Il Negozio Watashi Ga O Ishi Mono Wo No Però Questo Wo Suona Di Merda O Ishi O O O O O Mise Wo Ah ok Ci sono Forse O O Ishi Questo Mono Wo E' La Regola O Ishi Omise Shukai Ste Ste Aghetan Mono Wo Questo O O Ishi Omise Shukai Ste Aghetan Mono Wo Se me L'avessi Chiesto Avete Avrei Presentato Io Questo Fantastico Negozio Cioè Questo Fantastico Sì Questo Locale Molto Buono Che La Uno Se Tutte Uno Mi sa Che Qua Ho Sbagliato Qua Sono Tutte Uno Le Burogu 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 Non so Cosa Signora Burogu Burogu Sta Guardando no mitero mitero qua è tomo kagiranai non so se c'è il ni qua in mezzo kagiranai, kara aspetta guardo solo quel ni lì non mi ricordo se è ni kagiranai tomo kagiranai dove cacchio è? non ce n'è neanche? no, ok però hai ni? però non c'è il ni non c'è il ni qua dove cazzo è finito il ni? dove c'era? oh, non c'è il ni non so per qua progni non c'è il ni, manca il verbo ni non c'è il ni to, to, you ah, ok giochio, ok perché questa è l'altra regola infatti se mi mancava il ni qua mi era venuto il dubbio perché manca un ni e di solito avanti a questo c'è il ni ma non c'era infatti mi è venuto il dubbio boh blog nimi, teruto non è detto che non ci sia qualcuno che lo veda sul blog ito no waruguchi nanka kakanai ogai sarebbe meglio che non parli male degli altri ito no waruguchi parlare male degli altri waruguchi nanka che parli male degli altri kakanai ogai sarebbe meglio che non lo scrivi kakanai ogai sarebbe meglio che non scrivi parlando male degli altri visto che non è detto che nessuno guardi il blog tomo kagiranai magari scritto giusto magari col kanji kagiranai kagiru kagiranai ok e la 1 anche questa mi metto a ridere 4 non lo so vediamo mi sembra strano queste file di 1 rileggo un attimo questo qua donna niva tashita chiga sezumesta tokorode ayashi sanwa jibun no yaritaino mi sono la giusta vabbè le lascio così vediamo tanto sbagliando si impara e chi la fa l'aspetta l'unico potrebbe essere questa qua che è invertita fukumete riorio fukumete niente riorio fukumete fukumete se niente ito itato groda cioè praticamente si inverte o questo o questo o questo o questo boh non lo so io lo scriverei così fukumete se niente ito itambo mi suona bene non lo so lascio così anche perché quando cambio poi faccio casino quindi non cambio facciamo prima questo è l'ultimo esercizio dell'anno allora abbiamo 2 1 4 2 1 e qua non l'ho scritto perché sono avanti 2 1 4 era la 4 non l'ho scritta però il 4 è giusto 2 1 4 poi 2 1 4 3 1 1 3 1 1 ok 2 4 1 4 2 4 1 4 quindi è giusto e mo ci ride 3 1 1 4 però dice 3 l'ultima 3 1 1 3 io ho messo 4 perché l'ultima è sbagliata che mi sembra blog lui dice che la 3 è carano ah vabbè ho capito la recano blog va qua blog dice sul blog blog non è detto che nessuno non lo guarda sul blog non devi è praticamente il blog al posto di qua va qua in teoria se è così è così io avrevo messo non è detto che nessuno guarda il blog non parlare male delle persone stava bene lo stesso invece per il libro è non è detto che non lo veda nessuno sul blog non scrivere cose brutte ok quindi si scambia c'è blog da qui a qui quindi questo qua me lo segno che l'errore è questo e diventa così diventa la 3 perché si sposta di 1 e quindi questo quindi ho sbagliato solo questa cosa che però vabbè concettualmente era giusto era solo sbagliato blog da qui cioè il concetto io avrei detto non è detto che nessuno guardi il blog invece lui intende non è detto che nessuno lo guardi sul blog non scrive la stessa cosa però vabbè ok questa è la sbagliata provo lo segno scriviamo tutto e via e prendi il mondo e vai pensavo cioè quelle che pensavo di avere sbagliato che erano queste 3 qua erano giuste e l'ultima che ero sicuro l'ho sbagliata ottimo bevo l'acqua e arrivo devo comprare anche i fogli aiuto non ho i fogli grazie corcor per il follo non ho visto che avevi scritto scusa corcor muriokunan yukio futarino ai uo 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 scusate mi è partito un kinky kids dal cuore bevo l'acqua e arrivo prendo l'acqua e arrivo ora uo 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 Grazie a tutti. Più o meno. Non dimenticarti del nostro amore. Allora. Grazie per essere venuti qua in questo momento, oggi che siete molto impegnati. Le solite frasi lecca a culo dei giapponesi, io le odio queste frasi qua. Tanto non ci crede nessuno. Allora, lezione, lezione di ente, esercizi. Questa è l'ultima lezione di grammatica. Ne abbiamo fatte tutte. G1, G3, grammatica, N1. Poi, boh, non so se faccio le lezioni di ripasso, però non è molto senso. Cioè, le faccio, ma le faccio nel pomeriggio, quando voi non mi vedete nel buio. Onjitsu, Onjitsu wa Oizogashi, Tokoro, in questo momento che siete così impegnati, Tokoro wo Atsumari Itadaki, siete riuniti tutti qua intorno a me. Atsumari Itadaki Itadaki, Arigatou Gozaimasu, grazie. Lui, sbattendosi nei maroni, che i suoi amici dicevano no, ha aperto il suo negozio. Begli amici. Yujin, Yujin Tachi, i suoi amici dicevano no, Hantai, essere contro, Hantai, Hantai o monotomo sesu, monotomo sesu, Karewa, lui, Karewa, Jibun nomise il proprio negozio, Jibun nomise il proprio negozio, Miseo iraita, questo qua è quello che avete imparato anche voi, aprire. Iraku, iraita. Considerando che è nata anche mia figlia, entro oggi penso che smetterò di fumare e di bere e di trombare. Forse l'ultima parte l'ho aggiunta io. A Musume, Musume è la figlia. Musume mo, Umaretashi, l'è nata. Umaretta. 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 Che canzone romantica. Poi se vedete cosa sto cantando vi mettete a ridere, però la canzone è molto lunga. Il robot investigatore. O sa che, o sa che, i liquori, o sa che, mo, tabacco mo, tabacco mo, 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 yameo shi na i, yameo to o mo imasu. Tutarino, ah, i, u, 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 u Vuoi dirlo, ma devi spiegarmelo bene a me. Cioè, è la stessa cosa, se non voglio dirtelo, perché dovrei dirtelo. Itakunai, Itakunai, che non me lo vuoi dire. Itakunai Gijo, che è l'amico di Toppo. Gijo, situazione. Capisco la situazione per la quale non vuoi dirmelo, ma devi spiegarmelo. Non ho capito. Sono tornato. Sono tornato. Sono tornato. Ben tornato. Wakaranai, wakaranai. Demonae. Demonaega. Non è che non capisco perché non me lo vuoi dire, ma me lo devi spiegare per bene. Non ho capito. Non voglio dirtelo. Kikinto, che è per bene. Kikinto, watashini a me e non a te. Watashinimo, anche a me. Watashinimo, sezume, esteoshi. Vorrei che me lo spiegassi. Ma se non lo vuole dire, perché dovrebbe spiegartelo? E poi perché anche a te? Se non l'ha detto nessuno, esteoshi. Bu, sono un po' confusi questi giapponesi. Tanaka-san to isho nike ba imono wo doshte itoride ikita garu no. Sarebbe meglio che andassi con il signor Tanaka. Perché vuoi andare da solo? Magari perché gli sta sulle balle il signor Tanaka? Tanaka-san, o la signora non si sa perché non si capisce se maschio o femmina è un cognome. Tanaka-san to isho, isho è together forever, forever and ever. Isho ni ikeba, ikeba è potestri andare. Se vai, sarebbe stato meglio che vai con il signor Tanaka. Mono wo doshte perché, why, because doshte itoride da solo, itoride ikita garu. Perché vorresti andare da solo? Perché il signor Tanaka puzza ikita garu no. Punto dei domandos. Mono minasanto aenaito moto, sami, sami, shi, o sami, shi, kagiri desu. Solo a pensare che non ci incontreremo mai più. Sono molto, sono tristissimo sarebbe praticamente. Allora, mo, sei, mo, mono minasanto. Queste sono le solite frasi false a cui non crede nessuno. Però dicono sempre, mo, minasanto, aenai, e invece dentro è contento, vai vai che non incontro più. Aenai, to, omoto, se penso al fatto che non ci incontreremo mai più, sono super toriiste. Sami, shi, kagiri desu, o dai, la stessa cosa. Kagiri desu, punto. Lui ha fatto grande errore, non è relativo solo al lavoro di oggi. Che significa che lo fa sempre, il pirlone. C'è un pelo di k sul dito, come mai? C'è un pelo di gatto, intendevo. Sette, karewa, o, 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 occhi di gatto, karega, okina, grande, okina, shippai, errore, shippai, shippai, sta, o, sta, no, ha, ha fatto grandi errori. Stanno qua, concai, questa volta, concai, no, shigoto, lavoro di oggi, shigoto, ni, kagitta, kagitta, koto, devanai, punto. Non è detto che non ti dimenticherai il contenuto di oggi e sarebbe meglio che ti porti la bozza del discorso. 8, onjitsu, 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 naio, ontenauto, naio, o, wassureru, è dimenticare. Wassure, wasshinai, wassurenai, togaginanai, non è detto che non ti dimenticherai del contenuto di oggi? No, no, no. No, mh, 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 mh. Suppici, suppi, suppi, suppici danė, suppici danė, suppici no genko na, na na, na na, na nananana, na, na, na na, na na, 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 na na, na, na na, 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 na na, 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 na. Taía motna danė, wamotte itogai, sarebbe meglio che ti porti dietro La bozza del discorso. La bozza del discorso. La bozza del discorso. Se si tratta di me, se studio un pochino, anche se studio un pochino non riuscirò a passare l'esame. La bozza del discorso. 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 sul blog 5 darekà qualcuno darekà darekà no darekà o darekà darekà ok darekà mi hai detto solo chi guarda non hanno non solo per chi guarda ma anche sul blog non devi scrivere cose che potrebbe essere anche così tomo kagiranai e questo dopo me la faccio spiegare da marco in che senso l'hanno intesa loro io l'ho capita in un altro senso prima cara blog vai comunque me lo scrivo come come così poi vediamo se è giusto o no questo me lo segno che blog l'ho messo a caso e la risposta era qua ce l'ho messo a caso l'ho messo all'inizio per me suonava bene così perché io l'avevo letto darekà e invece darekà cambia perché darekà è qualcuno e darekà è chi non è riferito solo a chi guarda ma sarebbe meglio che sul blog non scrivi cose che cioè parli male degli altri blog ni ito no waruguchi parlare male waruguchi nanka kakanai non scrivere kakanai oga i sarebbe meglio che non scrivi kagare praticamente oga i e basta e abbiamo finito lezione record niente lezione flash oggi flash e i suoi amici niente grazie proto e grazie massimo per la compagnia domani boh vedo se fare gli esercizi di anzi adesso controllo se i kanji sono i kanji della lezione che sto facendo faccio gli esercizi dei kanji se no vado avanti perché se sono compresi tutti i kanji che ho fatto dall'inizio quando ho finito tutto il libro li faccio inutile che ciao alex grazie a voi e niente ci si vede bampresto oggi è lune martemmerco che cacchio di giorno è oggi è marte domani c'è la lezione ok come il solito go shi ci ho arrivato cosa di massa che grazie per avermelo visto e sentito ci si vede bampresto come dicono alla bandai tanti baci tanti abbracci buona giornata dai un bacio anche a cumulone da parte nostra o da parte mia sicuramente anche da un altro sicuramente intanto ora si lecca la faccia vabbè grazie a tutti